Musica Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video spero che non ci sia troppa differenza di audio rispetto al solito ma ho dovuto cambiare location perché oggi c'è un tempo bruttissimo fuori e dove il registro di solito la stanza era veramente tanto 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 buia e anche la mia ring light non bastava a migliorare la situazione quindi ho dovuto un pochino improvvisare per riuscire comunque a portarvi un video anche questa settimana inizialmente la mia idea per il video di oggi era quella di fare un make up però visto tutta la situazione non sono neanche riuscita a portarmi il tavolo per questioni di spazio e quindi ho deciso di farvi vedere le cosine che mi sono arrivate da Aliexpress nell'ultimo periodo in realtà sto aspettando ancora qualcosa però c'è da dire anche che io continuo a prendere su Aliexpress non aspetto mai tipo che mi arrivi tutto prima di fare di nuovo shopping quindi credo proprio che vi farò poi anche un secondo video haul direi di partire con questo primo pacchettino al cui interno in realtà vedo varie cosine la prima cosa che ho pescato sono queste maniche a righe un po' emo le avevo già in realtà in bianco e nero spero che comunque renda dal video ma sono tipo rosa pastello e nere e con determinati outfit possono stare molto bene ovviamente hanno il buco per il dito qua e come materiale ovviamente è tipo super sintetico però sono molto molto morbide procediamo con un choker questo ha le punte molto lunghe mi piacciono questi che hanno appunto la chiusura tipo fibbia perché io comunque ho un collo molto piccolo e solamente con questi solitamente riesco a trovare la mia taglia perché quelli con il bottoncino clip sono sempre troppo grandi per me questo è veramente figo e l'ho puntata in realtà anche sempre a base nera ma con le punte classiche argentate cioè comunque non è che fungolo non so se tipo rendono dal video però sono super arrotondate tipo in plastica penso quindi è anche molto leggero andiamo avanti con un telecomando da selfie su questo vi devo un po' narrare che cosa è successo in pratica io ne avevo ne ho un altro rosa sta che avevo fatto delle foto di Paul e poi l'avevo appoggiato tipo sul tavolo in sala ve lo metto poi nella tasca della felpa e da lì non lo trovo più non lo trovo più sparito tipo ho rivoltato casa sparito decido così di ricomprarlo visto che comunque costano una cavolata raga appena mi confermano l'ordine cioè tipo tempo 5 minuti ritrovo l'altro no comment quindi ora ho due telecomandini da selfie il sistema è che uno si rompa o decida nuovamente di sparire quello si scorta ma sto giro tra l'altro l'avevo preso nero perché a volte me lo devo tipo un po' nascondere tra i vestiti e spesso e volentieri sono vestita di nero quindi questo si camuffa un pochino di più ad ogni modo io questi ve li straconsiglio cioè sono veramente comodissimi perché appunto riuscite a fare un autoscatto in modo molto più comodo rispetto che ad esempio impostare il timer sul telefono e poi correre per mettersi in posa perché con questo basta che appunto lo collegiate al bluetooth c'è ovviamente l'opzione sia per iphone sia per android e quando siete in posa cliccate appunto vi scatta è veramente veramente comodo questo ve lo straconsiglio ultima cosa per questo pacchettino un altro choker a me piacciono molto i choker ho fatto un periodo in cui non ne compravo più ma semplicemente perché ne avevo presi un paio che avevano l'aggancio di cui vi stavo parlando prima e mi erano grandi quindi mi era un po' passata diciamo la voglia sono decisamente più comodi spero che si capisca vi è appunto anche questo nero su nero magari ve lo faccio vedere così ok ha alcune borchie più lunghe altre più corte di ring e o ring in mezzo scusatemi se c'è stato un cambio di inquadratura di sfondo qualcosa ma ha suonato il corriere e nella situazione in cui appunto sono adesso per aprire la porta mi si è tipo smontato tutto lo sfondo che ci avevo messo non so quanto a mettere su prima per iniziare il video quindi continuiamo con un nuovo pacchetto wow stavolta gondellina super alternative paura visto che comunque la vita è abbastanza alta che mi sia un po' larga in vita ho preso una S io solitamente in vita ho una 34 che corrisponde a una XS questa purtroppo la taglia più piccola era una S e quindi ci accontentiamo un pochino so che un po' mi piaceva troppo per non prenderla è super carina in realtà devo dire che è fatta veramente bene cioè è un tessuto un po' rigido però è fatta veramente bene magari lavandola potrebbe ammorbidiarsi un pochino comunque vedo che è rifinita benissimo anche qui ha il pizzo è proprio bella bella lateralmente ha la cerniera perché non è elasticizzata per nulla e questa la vedo veramente un sacco su Instagram nell'hashtag alternative got va proprio super di moda e c'è uguale ho visto anche nella versione rosina che anche quella è molto bella sinceramente ero molto indecisa se prenderla in bianco nero o in rosa alla fine ho scelto come prima quella in bianco nero ho detto vabbè perlomeno la magari l'abbino un po' con tutto tra l'altro a proposito di gonne sempre da Aline ne starei aspettando un'altra l'avevo visto bellissima tipo in famaculato o azzurro nero bellissima chissà se mai riuscirà ad arrivarmi perché l'avevo presa tipo un po' di tempo fa appena dopo questa praticamente l'acquisto va tutta a buon fine tutto perfetto a un certo punto vado a vedere tipo nella tracciabilità e mi mette spedizione annullata senza dirmi niente infatti per fortuna me ne sono accorta in tempo e ho contattato il venditore che mi ha fatto il rimborso e niente non si sa che cosa sia successo con quella ho aspettato che appunto mi arrivasse il rimborso e l'ho ricomprata indovinate va per scadere il tempo per il venditore appunto di inviarmela e qui ancora niente poi ovviamente se tipo scade e lui non me l'ha inviato Aliexpress mi manderà in borsa in automatico ok però diciamo che preferirei che mi arrivasse la gonna visto che comunque mi piace così tanto quindi chissà se in un futuro la vedrete vorrà dire che in un qualche modo sono riuscita ad acquistarla e andiamo ad unboxare questo pacchettino maglietta super lunga stampa che amo il materiale è ottimo adesso vi dico anche la composizione per farvi capire un attimino è composta al 95% da cotone mentre invece dal 5% di poliestere quindi direi che praticamente tutto cotone ottimo anche la stampa è veramente veramente bella e cioè è tipo questa nel senso non sono quelle stampe che al primo lavaggio vengono via Alice in Wonderland è piena 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 di dettagli cioè praticamente lei è Alice con lo stregatto però vedo che c'è tipo ci sono anche riferimenti al cappellaio matto al brocaliffo che c'è tipo lo stregatto che fuma non so se avete mai visto il cartone che c'è tipo una di foto fa il cerchio col fuma un coniglio comunque ci sono veramente tanti 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 dettagli e la trovo veramente ben fatta un tatuaggio che potrebbe tipo rappresentare la regina di cuori di questa infatti ho preso una taglia L perché ho visto che comunque la S era lunga però era una lunghezza che sicuramente dove ho metterci sotto uno shorts o qualcosa siccome era già da un po' comunque che volevo una maglia oversize che mi facesse anche da vestito ne ho approfittato ho preso una L ed è perfetta arriviamo così all'ultimo pezzo del lol questo l'avevo già unboxato con voi su un video di tiktok quindi ne approfittura per ricordarvelo qui sotto nell'info box vi lascio il link per andare a seguirmi sul mio profilo di tiktok se ancora non lo fate e anche i link per seguirmi sui miei profili di instagram sia quello principale sia quello di make up perché li pubblico praticamente quotidianamente e il pezzo forte di cui sto parlando è questa ovvero una borsa a forma di vara letteralmente come potete vedere il manico è un osso ed è fatta veramente bene nei minimi dettagli dietro ha i piedini ovviamente arriva anche con la sua tracolla che potete decidere se attaccare o staccare l'ho già utilizzata un paio di volte e devo dire che pensavo che comunque fosse molto più scomoda per aprirla dovete tipo tenerla in piano però è uno sforzo che sinceramente faccio molto volentieri e questo per l'haul di oggi è tutto queste sono tutte le cosine che mi sono arrivate nell'ultimo periodo fatemi sapere qual è il pezzo che vi è piaciuto di più dell'haul con un commentino io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video ciao